Ciao a tutti e benvenuti. Idris Elba si prepara per combattere contro i dinosauri di Jurassic Park. Ve ne parlo dopo il video. Ma di che si è fatto questo? Di roba pesante. Fatelo salire in macchina. Mettilo in macchina. Avanti, mettetelo in macchina. Cammina! Andiamo! La polizia della Pennsylvania, dite che mandino subito dei cani e sigillino tutta la zona. L'accesso tutto intorno. Va bene? Tu, vieni con me. Le riprese di Jurassic World sono sempre più vicine e non è stato ancora ufficializzato l'intero cast di questo nuovo capitolo della saga di Jurassic Park. I primi due nomi non hanno proprio entusiasmato i fan, probabilmente perché si trattava di due giovani attori poco conosciuti alle masse, cioè Ty Simpkins e Nick Robinson. Per adesso è solo un rumore, però pare che l'attore Idris Elba, conosciuto per i suoi ruoli in Thor, Pacific Rim, Prometheus e nell'imminente biopic su Mandela, sarà la star del sequel. Tutto da confermare, però il suo nome era uscito l'anno scorso quando il progetto si chiamava ancora Jurassic Park 4. Facile ammettere che sarebbe perfetto per qualsiasi parte Spielberg e il regista Colin Trevorrow possono avere in mente per lui. Le riprese in 3D di Jurassic World cominceranno a breve, nei primi mesi del 2014, in modo da rispettare la data già fissata per il 12 giugno 2015, la data di uscita naturalmente. E questa era la notizia di oggi, ricordatevi di visitare il nostro sito filmisnow.com per tutte le notizie. Ciao e al prossimo video!